Good morning ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione del Prof.Betti. Oggi parleremo sempre di letteratura e degli inizi della letteratura italiana. Se nel video precedente abbiamo visto la vita di San Francesco e la sua è considerata comunque la prima opera nella storia della letteratura italiana, oggi andremo a vedere quello che possiamo considerare un po' il primo movimento per quanto riguarda la letteratura italiana, la prima vera e propria scuola. Infatti oggi parleremo della scuola siciliana che dette il là ad un tipo di letteratura staccato da quella religiosa che abbiamo visto con San Francesco. Bene, come sempre però il powerpoint e cominciamo con la lezione. Come detto nell'introduzione quindi oggi parleremo della scuola siciliana. Oggi può sicuramente sembrare strano ma per un certo periodo del 200 la Sicilia è stata quasi il centro d'Europa in pratica. Infatti in questo periodo regista regnava l'imperatore Federico II di Svedia che divenne imperatore proprio nel 1220 e regnò fino al 1250. Tra i suoi possedimenti vi era proprio anche la Sicilia che lui elesse come il centro dell'impero. Infatti per la maggior parte del tempo quando diciamo non era impiegato soprattutto in battaglia e Federico II teneva la sua corte proprio in Sicilia. E quindi ciò favorì una grandissima evoluzione di quest'isola da un punto di vista ovviamente anche economico ma soprattutto per quanto ci riguarda anche da un punto di vista culturale e letterario. Federico II era un imperatore molto dotto, molto interessato anche allo sviluppo della cultura, parlava moltissime lingue, il padre era tedesco, mentre la madre normanna quindi parlava francese. Quindi Federico nasce già bilingue, tedesco e francese, in più conosceva il latino e in Sicilia impara il greco, il volgare siciliano e l'arabo addirittura. Quindi era veramente un sovrano molto acculturato, diciamo così. Tanto che proprio sotto l'impero di Federico II si ha una vera e propria rinascita delle scuole nel sud Italia. Infatti proprio sotto l'impero di Federico II si ha la nascita della scuola di Capua, la fondazione dell'Università di Napoli, che ancora oggi si chiama Università Federico II, e anche la creazione di una scuola di medicina a Salerno. Questo proprio per testimoniare l'importanza della cultura con Federico II. Federico II è anche colui che in qualche modo fa nascere questa scuola siciliana attorno alla sua corte, infatti. Noi si considera un po' come data di nascita, in maniera così ovviamente un po' generica, il 1230, e questa scuola di poeti siciliani rimarrà attiva, diciamo, fino al 1266, l'anno della battaglia di Benevento, quando il successore di Federico II, il figlio Manfredi, viene sconfitto, e dopo questa sconfitta importantissima del 1266, si avrà una grave crisi per quanto riguarda il meridione d'Italia, in particolare la Sicilia. I protagonisti di questa scuola siciliana, che prendevano spunto soprattutto dalla letteratura provenzale, ok, mentre la letteratura provenzale era portata avanti da professionisti giullari, gente che faceva quello di lavoro, o da cavalieri di rango, diciamo così, in minore. In Sicilia, invece, i protagonisti sono quelli che oggi potremmo definire i borghesi, la borghesia. Infatti, la maggior parte dei poeti in questo periodo sono soprattutto giudici e notai, e questa è una differenza importante rispetto ai cavalieri francesi, diciamo. Una delle più grandi differenze che si ha tra la poesia trovadorica francese, diciamo così per semplificare, e quella siciliana è il divorzio che avviene proprio in questo periodo tra la musica e le parole. Infatti, mentre in Francia si componevano poesie sempre accompagnate dalla musica, che faceva parte proprio integrante del testo poetico, diciamo, invece, essendo questi degli amatori che facevano altri lavori e che si dilettavano soltanto ogni tanto a scrivere, e non avendo questi delle competenze musicali, allora cominciano a scrivere testi non accompagnati da musica. Poi a volte venivano anche composte successivamente nelle canzoni per accompagnare queste poesie, però la nascita era soltanto per la lettura e quindi non per una composizione fatta con la musica. Un'altra grande differenza tra la scuola siciliana e quella trovadorica francese è che si ha una poetica molto più astratta e riflessiva rispetto a quella dei francesi. Mentre l'amor cortese era un amore che parlava in maniera anche abbastanza concreta dei fatti legati all'innamoramento, la poesia siciliana invece tratta il tema dell'amore in maniera molto più astratta e riflessiva, in maniera appunto meno concreta. Adesso andiamo a vedere quali sono le strutture, diciamo così, tipiche della scuola siciliana. Sono fondamentalmente tre da un punto di vista metrico. Si ha la canzone, la canzonetta ed il sonetto. La canzone e la canzonetta esistevano già anche nei modelli francesi, mentre il sonetto è un'invenzione tutta siciliana. La canzone è un po' da considerare la regina di queste composizioni, è la più importante. Solitamente è scritta in endecasillabi alternati a settenari e parla soprattutto di argomenti assolutamente elevati, in particolare appunto l'amore e, come detto, fra questi tre tipi di composizioni è quella che ha il ruolo più importante. La canzonetta invece ha una struttura dialogica, cioè fatta come se fosse un dialogo. Per questo motivo qui parla anche di argomenti meno elevati rispetto a quelli della canzone, quindi anche argomenti più leggeri, diciamo così. Anche la struttura è meno importante, diciamo l'endecasillabo è un po' il verso più importante poi di tutta la scuola italiana, infatti la canzonetta non utilizza solitamente l'endecasillabo, ma versi più veloci, diciamo così, come sono i settenari, gli ottonari o i novenari. L'ultima importante innovazione siciliana è la creazione del sonetto. Probabilmente nasce come una stanza di una canzone, quindi nasce dalla canzone. Probabilmente il primo a scrivere, almeno così noi pensiamo, a scrivere un sonetto è Giacomo da Lentini, che poi ne parlerò nella prossima slide. Il sonetto è composto da 14 endecasillabi, due quartine, le prime due, e due terzine, che sono finali. Il sonetto ha una grande varietà di argomenti, poiché è più breve rispetto alla canzone, si presta bene a parlare di argomenti alti, come appunto l'amore, ma anche argomenti più quotidiani della vita di tutti i giorni. La lingua utilizzata dai poeti siciliani è una lingua aulica, che ha come base il volgare siciliano, ma poi ha tutta una serie di influenze che vanno dal francese, dall'arabo in parte e soprattutto anche dal latino. Quindi è una lingua molto ricca e, potremmo dire, con una valenza interregionale, nel senso che veniva compresa piuttosto bene anche nel resto d'Italia. La crisi che colpì la Sicilia dopo la battaglia di Benevento e la sconfitta di Manfredi fa sì che le opere siciliane vengano praticamente perse. Questo però non impedisce di arrivare fino a noi, altrimenti noi non conosceremo neanche questa scuola. Perché noi conosciamo la scuola siciliana? La conosciamo grazie a tre codici che erano una serie di poesie ricopiate. Questi codici hanno dei nomi, il codice laurenziano, il palatino e il vaticano latino 3793. Furono codici ricopiati da dei toscani. Quindi che cosa succede? Dei toscani vengono a conoscere queste poesie famosissime all'epoca dei siciliani e le riscrivono. Però nel riscriverle non lo fanno in maniera fedele, ma le adattano alla loro lingua. Quindi le poesie siciliane che sono giunte fino a noi sono passate attraverso il filtro del toscano. Infatti i toscani si ritenevano i veri e propri continuatori della tradizione letteraria siciliana. Vi ho detto, una delle personalità più importanti per quanto riguarda la scuola siciliana è Giacomo Dallentini, che è considerato un po' il caposcuola. Innanzitutto noi sappiamo poche cose di lui, però una delle nostre poche certezze è che fu un funzionario imperiale di Federico II tra il 1233 e il 1241. Questo lo sappiamo da dei documenti firmati proprio da Giacomo Dallentini. In Toscana venne conosciuto attraverso il soprannome Il Notario, proprio perché il suo lavoro era quello di essere un notaio imperiale e, come vi ho detto, fu proprio considerato il caposcuola dei siciliani. Di lui ci sono pervenute 38 poesie, 38 componimenti, che sono giunti fino a noi grazie appunto al filtro dei toscani. In particolare i temi trattati da Giacomo Dallentini riguardano l'amore soprattutto da un punto di vista di analisi psicologica, cioè che cosa succede all'innamorato e anche fenomenologica, cioè i fenomeni che avvengono quando una persona si è innamorata. Ed in particolare è interessante notare che lui fa una distinzione tra il piacimento degli occhi, cioè il piacere di vedere fisicamente proprio con i propri occhi la donna amata, e il nutricamento, che invece è quando uno ripensa con il cuore, che è considerato il centro di questo sentimento da Giacomo Dallentini, con il cuore si ripensa alla donna amata. E quindi c'è questa distinzione che oggi è scontata, ma all'epoca era piuttosto moderna, diciamo così. Da Giacomo Dallentini nascono due tendenze. Una tendenza tragica più alta, possiamo definirla così, che aveva tra i suoi principali scrittori Guido delle Colonne e Stefano Proto Notaro, e una tendenza più narrativa, più vicina alla vita di tutti i giorni. E tra i rappresentanti di quest'altra tendenza ci sono Rinaldo D'Aquino e Giacomino Pugliese, che fanno comunque tutti parte della scuola siciliana. Un pochino più distante dalla scuola siciliana, vi è una terza tendenza, la tendenza giullaresca, che si pone appunto fuori dalla scuola siciliana e che è giunta fino a noi grazie a un'opera, Il Contrasto, di Cielo d'Alcamo. Quest'opera potremmo definirla una sorta di parodia di quelle che erano le opere degli scrittori siciliani. Però, nonostante tutto, rimane un'opera interessante da leggere e da studiare, proprio perché anche le parodie ci fanno capire quali erano le mode del tempo. Bene, come sempre spero che questa video-lezione vi sia piaciuta e ci vediamo in classe.